La mia infodata del decennio, ve lo dico subito, è bruttissima. Parla di demografia d'impresa e fa il calcolo, anzi calcola, la percentuale di sopravvivenza delle imprese. Per cui, insomma, immaginate che non è un tema leggerissimo. Un'azienda che è nata nel 2010, come potete vedere, ha il tot di probabilità di sopravvivere un anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo, cinque anni dopo. Allora, corredire brutta e brutta, ma io ci sono affezionato anche perché le cose più bruttine poi magari sono anche quelle più interessanti, ma il motivo per cui l'ho scelta è che, insomma, rappresenta un po' quello che è infodata. Andiamo a raccontare un tema importante come quello della capacità di impresa di un paese e lo facciamo con delle previsioni, utilizzando le banche dati dell'Istat e cercando di dare all'opinione pubblica, a noi stessi, ai giornalisti, agli addetti al lavoro, perché no, ai politici, degli strumenti anche per capire dove intervenire per migliorare la capacità imprenditoriale del nostro paese. Buon anno!